Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolisse. Verrà inaugurata questa sera alle 19.30 la nuova sede della Fisio Pro, lo studio di fisioterapia riabilitative e attività motoria preventiva e adattativa di Antonella e Paola di Cesare, si è trasferito in via Sant'Antonio dei Lazzari a Campobasso. Parliamo del campionato di Serie D, decima d'andata. Vediamo i risultati nel girone F. Ancona-Boiano 8-0, Fano-Renato Curi 2-0, Fermana-Civitanovese 0-0, Giulianova-Olimpia-Agnonese 2-0, Isernia-Matelica 0-3, Maceratese-Amiternina 2-0, Recanatese-Pesaro 1-2, Sulmona-Iesina 2-0, Termoli-Celano 1-0. In testa troviamo Ancona a quota 23, Termoli-20, Sulmona-Maceratese e Civitanovese 19, Matelica e Pesaro 17, Giulianova 16, Iesina 15, Celano e Fermana 12, Amiternina 11, Fano 10, Recanatese 9, Olimpia-Agnonese 7, Isernia 6, Renato Curi e Boiano 4 punti. Vittoria di misura in zona Cesarini, ma meritatissima per il Termoli contro il Celano. Arriva l'ultimo assalto dopo un pomeriggio di sofferenze e pateni, ma è bello anche così. Il Termoli continua a macinare vittorie e punti, 12 nelle ultime quattro partite, con 8 gol fatti ed uno subito, sono i numeri di una squadra che deve ancora lavorare e crescere, ma intanto vola e fa sognare soprattutto i tifosi. Contro il Celano 3-5-2 con De Tommaso e Falco in panchina, Di Mercurio è squalificato, poco gioco però in avvio. Il Termoli porta palla, ma con poche idee e scarsa lucidità, manca la spinta sulle fasce. In avanti Miani e Genchi sembrano avere le polveri bagnate, le emozioni arrivano con il contagocce. Il Celano si fa vedere invece timidamente. Prima al 21esimo, quando sul cross di Bordi, Valdessa non arriva sulla conclusione a due passi da Patania. Al 25esimo, sugli sviluppi di un corner battuto da Mercogliano, Marfia tenta la battuta da lontanissima, la palla termina abbondantemente sulla traversa. Il Celano si fa vivo nuovamente al 32esimo, ancora con Valdessa che in bella coordinazione prova a battere Patania ancora sul traversone puntuale di Bordi da sinistra. Giacomaro cambia modulo, passa al 3-5-2, dal 38esimo sul lancio di Fusaro. Genchi va via in velocità e la sua conclusione viene parata a terra da Bartoletti in due tempi, ma il Celano ad avere fra i piedi l'occasione migliore della prima frazione per sbloccare il risultato. Il 48esimo, la difesa del Termoli, non riesce a fermare Dema, la palla arriva così a Mercogliano che tu per tu con Patania scheggia la traversa. Nella ripresa ci si aspetta un Termoli più reattivo, ma è l'unica conclusione del Termoli nei primi minuti e quella di Genchi al decimo fuori misura. Giacomaro getta nella mischia anche di Tommaso e passa al 4-5-1, ma il Celano al 29esimo ad avere una buona occasione con Dema che si gira in aria e chiama Patania alla respinta. Il Termoli prova ad accorciare i tempi e il trentesimo prima con Deto Naso si rende pericoloso chiamando Bartoletti ad una chiusura in corner ed un giro di lancette più tardi e Miani a tentare la via della rete dal limite dell'area, ma è ancora l'ex Pescara a salvare i suoi in tuffo. Al 42esimo sul corner di Deto Naso l'incornata di Miani in aria meriterebbe miglior sorte, ma la palla si spegne di poco a lato. Il gol è però nell'aria ed arriva al 92esimo con il direttore di gara che segnala 5 di recupero. De Tommaso inventa l'assist d'oro per Santoro da poco entrato e l'attaccante non sbaglia tu per tu con Bartoletti facendo esplodere il Cannarsa. Il Termoli vince 1-0, centra la quarta vittoria consecutiva e continua a volare in classifica. La trasferta con il Matelica nasce insomma con ottimi auspici ed il dun chiaro segnale al campionato. Il Termoli vuole essere lì sopra fino alla fine. Niente da fare per Lisernia, K.O. interno contro il Matelica. Intanto nelle prossime ore Battiloro dovrebbe ufficializzare la consegna del titolo nelle mani degli imprenditori i sernini. Riguardo alla partita di ieri vediamo il servizio. In cassa una brutta sconfitta Lisernia ad opera della matricola Matelica. Il match parte sotto tono e la fase di studio si prolunga. Lisernia sempre in partita anche se non ci sono grandi emozioni né da una parte né dall'altra. Tuttavia i primi a farsi avanti sono gli ospiti con questo calcio piazzato di cacciatore dalla distanza ma Navarra in due tempi para. Al tredicesimo l'episodio che avrebbe potuto imprimere un volto diverso alla gara. Noto riceve un brutto colpo al viso. Il signor Santorelli di Salerno assegna il penalti a Lisernia ma dal dischetto Capitano Tufano non inquadra il bersaglio. Al ventesimo si rivede Lisernia con l'affondo di Noto che però al momento della conclusione sbaglia. Al ventisettesimo ecco che si sblocca il risultato. Gilardi sigla il vantaggio per gli ospiti con questa bella conclusione che prende tutti di sorpresa. Galvanizzati dal vantaggio il Matelica subito ci riprova con Ercoli ma la conclusione si schianta all'incrocio dei pali. Al trentesimo episodio contrastatissimo. Vitiello si invola verso la porta. Spitoni lo anticipa uscendo ma l'intervento si conclude con un colpo al volto incassato dal biancoceleste sanzionato solo con una munizione. Al trentesimo il Matelica ci riprova ancora da calcio piazzato con il solito cacciatore che però spara alto. Ma queste sono solo le prove perché poco dopo il 10 ospite perfeziona la mira con questa parabola in sacca lo 0 a 2. Al quarantatresimo si rivede Lisernia panico lancia Tufano che però a tu per tu con l'estremo ospite si fa respingere la conclusione. Termina così la prima frazione di gioco. A ritorno in campo si vede Lisernia che prova a costruire qualcosa. Al terzo minuto c'è Vitiello alla conclusione ma Spitoni blocca. Al quinto minuto è panico a provarci da buona posizione ma anda però al lato. Ma al diciassettesimo è ancora il Matelica ad andare a segno con Api che cala così il tris ospite. Lisernia ormai non è più in partita. Al trentatresimo i biancocelesti restano anche in inferiorità numerica. Noto riceve un rosso diretto per aver detto qualcosa di troppo. Al trentatquattresimo riecco Lisernia con panico che si libera e arriva alla conclusione ma il suo tiro debole e centrale non crea problemi. Scende così il sipario sull'incontro. Il Matelica continua a fare un buon campionato. De Lisernia che si è vista da Agnone è rimasto ben poco. La prossima settimana dovrebbe essere ancora una volta decisiva per dare una svolta a questa squadra dove sono ancora le vicissitudine attorno alla società tenere banco. Ancora una sconfitta la settima consecutiva per l'Olimpia agnonese in casa del Giulianova. Al cospetto di un Olimpia agnonese in crisi nera e reduce da 6 KO di fila e 20 gol subiti il Giulianova nonostante le assenze di carrozzieri Maschio e Dorazio vince pur senza strafare compiendo un passo avanti sostanzioso in classifica. Canovaccio della gara ben chiaro dall'inizio con al terzo la prima emozione giallorossa affidata a Capitano del Grosso che su calcio piazzato manca di pochissimo il bersaglio. I molisani rispondono subito al sesto con Wide che sorprende dalla distanza Melillo che si salva con l'ausilio dei legni della sua porta. All'ottavo ancora Giulianova pericoloso con un tiro a fil di palo di Berretti che fa solo gridare al gol gli 800 tifosi presenti sugli spalti del Rubens Fadini. Al diciannovesimo l'avanti giallorosso ci riprova con un tiro dalla distanza mancando ancora di pochissimo la mira. Il Giulianova spinge ma la squadra di Urbano si difende con ordine. Al trentatresimo Mancini in area giuliese entra in contatto con lo russo e poi termina a terra ma viene però ammonito per simulazione dal figlio d'arte ai rolli di Molfetta. I ragazzi di Ronci non sembrano in giornata di grazia e così fino al quarantacinquesimo non accade più nulla con qualche fischio al ritorno dei giallorossi negli spogliatoi. La ripresa si apre senza grandi sussulti. Al dodicesimo Urbano richiama in panchina Keita e butta nella mischia morante vecchia conoscenza dei tifosi di Lanciano, Provasto, San Benedettese, Campobasso e al ritorno in campo dopo quasi un anno di assenza. Ronci risponde un minuto dopo mandando in campo Dos Santos al posto di Puglia. Giuliano va a trazione anteriore, al diciassettesimo si vede finalmente Sposito che tira dall'area trovando la respinta del difensore Antonelli. Alla ventesimo Wilde tocca il pallone in area con la mano, forse involontariamente con Eroldi che indica però il dischetto e con Berretti che dagli 11 metri mette fuori. Il gol arriva al minuto 26 quando Broso riceve palla proprio da Berretti e mette alle spalle di Biasella che può solo intercettare con la sfera che rotola lentamente verso la porta. Per i giallorossi la rete è quasi una liberazione anche se l'Olimpia ha subito l'occasione del pari con Ricamato che di testa mette di un soffio a lato. Il finale vede il forcing tanto generoso quanto disordinato dei molisani che rischiano al 35esimo con un tiro di Dos Santos respinto da Biaselli che deve ripetersi anche su esposito qualche secondo dopo. Al 39esimo Eroldi vede un fallo in sandwich di Litterio Antonelli su esposito. Per il fischietto barese è ancora rigore che lo stesso giocatore giuliese realizza per il 2 a 0 che fa calare i titoli di coda sulla gara. Per l'Olimpia agnonese diventano sette le sconfitte consecutive. Onore ai giovanissimi calciatori del Boiano. In 11 contati si sono regati nella tana della capolista Ancuna. Inevitabile la sconfitta. La crisi economica affligge quotidianamente gran parte della nostra società. Investe ogni settore e il calcio non fa eccezione. Ma da qui ad affrontare un match ufficiale presentandosi con la Juniores ce ne passa. Soprattutto se siamo solamente alla decima giornata di campionato. Comincia così Ancona-Boiano. E per fortuna si gioca perché in settimana sembrava nemmeno si presentassero in campo i molisani. Comincia, indovinate chi? L'Ancona con un tiro telefonato di Degano. Poi al dodicesimo il primo botto. Barillaro va sul fondo, mette in area per Tavares che aggancia, si gira e in diagonale batte Romano per l'1 a 0 dell'Ancona. Ancona 1, Boiano 0, Diogo Tavares. Al quindicesimo doppio corner per l'Ancona. Sul primo smanaccia Romano. Sul secondo capparuccia di testa, mette di poco a lato. Ventiduesimo bondi dalla sinistra in area ma Tavares non aggancia. Venticinquesimo ogni corner per il Boiano è un thriller. Questa volta la difesa molisana sventa con difficoltà. Poi al trentesimo l'Ancona raddoppia. Sivilla sulla destra fa proseguire Barillaro che mette indietro per la corrente Degano che con un colpo da biliardo insacca il 2 a 0. Ancona 2, Boiano 0, Daniele Degano. È un monologo dell'Ancona. I poveri ragazzini del Boiano non riescono ad imbastire una benché minima azione da rete. Lori è spettatore non pagante. Al trentasettesimo Degano di Potenza, miracolo di Romano. Poi a Tavares non riesce il tapin vincente. Didio dalla sinistra, attraversone al centro. Degano non aggancia. Poi Cacioli da corner di testa. Beffa l'estremo del Boiano ma un difensore bianco-rosso dice no sulla linea. Fine del primo tempo. Ancona 2, Boiano 0. La ripresa comincia con Morbidelli in campo, il luogo di Bondi nell'Ancona e ne vedremo delle belle in questa ripresa. Infatti già dopo due minuti l'Ancona triplica. Da corner svetta più in alto di tutti Tavares che inzucca e buca Romano. Ancona 3, Boiano 0. Ancora Diogo Tavares. Tre minuti dopo ci riprova Degano, devia il portiere. E tre minuti dopo ancora Sivilla va via in velocità in contropiede e di Potenza in diagonale infila il poker dei padroni di casa. Ancona 4, Boiano 0. Andrea Sivilla. Andrea Sivilla che poco dopo lascia il campo per Cazzola. Al nonno continua la pioggia di gol. Imperiosa discesa proprio di Cazzola sulla destra. Cross sul secondo palo a Morbidelli che porge indietro a Degano che evita un avversario e scaglia in rete una sassata che dà il quinto gol all'Ancona. Ancona 5, Boiano 0. Daniele Degano. Daniele Degano che poco dopo lascia spazio a William Pizzi. Continua ancora l'Ancona 17esimo discesa di Didio sulla sinistra. Bella girata di Tavares. Bella risposta di Romano. Tre minuti dopo Pizzi fa barba e capelli al palo. E poi al 25esimo lo stesso Pizzi calcia in diagonale una palla che a un centimetro dalla linea di porta. Tavares tocca per il 6 a 0 dell'Ancona. Ancona 6, Boiano 0. Di nuovo lui, Diogo Tavares. Tripletta per il portoghese oggi. Finito qui? No, c'è tempo ancora. C'è tempo e gloria anche per Morbidelli che al 31esimo trasforma il calcio di rigore assegnato da Chiundemi di Viterbo. E a 5 minuti dal gong Pizzi si toglie lo sfizio e la soddisfazione di apporre il proprio nome nel tabellino dei marcatori con una potente botta di destro che si insacca all'incrocio dei pali del malcapitato estremo difensore molisano Romano. Finisce così Ancona 8, Boiano 0. Potismo domenica prossima lo start alla quarantesima edizione della Sue Giù. Anche quest'anno il gruppo sportivo Virtus ha previsto la quota di 6 euro per coloro che perfezioneranno l'iscrizione fino a dopodomani. Dal 7 al 9 il costo sarà di 10 euro, mentre chi si iscriverà alla manifestazione il giorno della gara, cioè domenica prossima, dovrà pagare una quota di 12 euro. Campionato d'eccellenza non ad andata. Vediamo i risultati. Alife Campobasso 0-1, Vairano Cliternina 2-2, Gioventù Dauna Vasto Girardi 3-1, Gambatesa Fornelli 1-1, Montenero Pozzilli 0-0, Roccaravindola Venafro 0-2, Santeliana Roseto 1-1, Sesto Campano Montaglio 4-1. In testa punteggio pieno Campobasso 27 punti, Gioventù Dauna 19, Venafro 18, Fornelli e Vasto Girardi, Vasto Girardi, Sesto Campano e Santeliana 16, Roseto 14, Gambatesa 12, Cliternina 10, Montenero 9, Alife 8, Roccaravindola 7, Vairano e Montaquila 4, Pozzilli 3. Pareggio tra Gambatesa e Fornelli, tira aria di cambiamento in casa dei fornellesi. Al venditti 1-1 tra Gambatesa e Fornelli al triplice fischio del direttore di gara sono sicuramente i padroni di casa a dover recriminare Fornelli che scivola in quarta posizione da segnalare l'arbitraggio davvero negativo del signor Marinuzzi di Taranto. Al termine della gara sono ben 10 cartellini gialli e 3 i rossi, più che una partita un bollettino di guerra. Andiamo con la cronaca, al sesto cross di Devizia, colpo di testa di Grillo deviato di un soffio fuori. Al nono il vantaggio del Gambatesa, disimpegno di Mocci, Bercaranci, controllo errato, Tosches recupera e con un lob morbido realizza il gol del vantaggio 1-0 Gambatesa. Nel replay vediamo proprio come Tosches che perde uno scarpino riesce comunque a realizzare nell'esultanza tutta la gioia dell'attaccante gambatesano Doc. Al diciottesimo Di Criscio prepara il sinistro, tiro secco, Mocci si distende in corner. Venticinquesimo prima azione del Fornelli, Castaldi per Cifani, fuori gioco da rivedere. Al trentacinquesimo il Fornelli resta in dieci, Cifani dal fondo, Grillo non arriva, tutto regolare ma il secondo giallo per simulazione all'attaccante di De Bellis sembra davvero una decisione cervellotica del direttore di gara. Al quarantesimo lo scarico di abiuso per il bolide di Conte, Mocci vola. Al quarantaduesimo Tosches, piazzato teso, vento forte, Mocci e traversa salvano il Fornelli. Al quarantaquattresimo la risposta dei Biancoverdi. Nel destro al volo spettacolare di Fabio Cifani che scheggia la traversa. In pieno recupero contropiede Fulminio del Gambatesa, di Criscio lavora e serve del Zingaro. Controllo sbagliato, poi tocco troppo morbido, riesce a salvare Tramontana. Passiamo alla ripresa. Al terzo è subito pareggio per il Fornelli. Tiro cross di Devizia, male capobianco, Mingione è lì e realizza di testa il punto del pareggio. Al settimo il Fornelli ci crede, Cifani super dribbling, scarico per Mingione di poco fuori. Quattordicesimo grande azione di Criscio, abiuso di Criscio, assist per del Zingaro. In anticipo manda fuori da ottima posizione. Al sedicesimo Mingione, subito per Cifani. Destro teso risponde capobianco. Da adesso alla fine sarà solo ed esclusivamente Gambatesa. Ventiseiesimo piazzato di Conte a rientrare, Mocci super salva i suoi. Al trentaseiesimo succede l'incredibile due cartellini rossi per il Gambatesa. Il primo è per Genovese, secondo giallo, amorosa protesta, rosso diretto e doccia anticipata anche per lui. Al trentanovesimo Monte, percussione in area, ma Trundola lo sposta con Foga, tutto regolare, secondo il direttore di gara. Nonostante la superiorità numerica, il Fornelli non riesce ad essere incisivo, ma il Gambatesa nel finale ad andare vicino al punto del vantaggio. Quarantaseiesimo del Re, come un missile, fa tutto da solo. Tocco morbido, Mocci, colpo di Reni, in corner. In pieno recupero, quarantanovesimo, ancora Mocci salva i suoi, su punizione di Tosches. Mischia, poi salvata da Caranci. Al triplice fischio, il Fornelli dice di fatto addio ai sogni di Gloria. Mercoledì, Fornelli in campo in Coppa Italia contro la Criternina. La gara del venditti tra Gambatesa e Fornelli sarà trasmessa in differita su Tele Molise Sport, canale 112, sia alle 15 che alle 22 e 30. Vittoria di misura, ma vittoria è stata per il Campobasso in casa della Leaf. Nove vittorie consecutive per la squadra di Mister Farina. Tre punti, come al solito, pesantissimi che equivalgono alla nona vittoria consecutiva, però c'è sempre da scoprire il pelo nell'uovo che è questo punteggio che poteva essere più rotondo rispetto alle occasioni avute. Secondo me abbiamo avuto più occasioni oggi che a Pozzilli. A Pozzilli abbiamo fatto quattro gol, oggi ne abbiamo fatto uno. Il calcio è così, il campo è leggermente peggio di Pozzilli, c'è da dire, però i ragazzi ce l'hanno messo tutto, sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Anche se abbiamo avuto una via fulminante, dieci minuti, Monti si è trovato due o tre volte, uno contro uno con il portiere. Doveva cercare, con uno stop orientato, di andare dentro, però il ragazzo ce la mette tutto. Cioè dopo quattordici partite, quattordici vittorie, cosa chiedere di più a questi ragazzi. Credo che il campo vi abbia condizionato, specie nel primo tempo, dove attaccava il campo basso nel primo tempo la parte peggiore del terreno di gioco. No, il campo, per me non è nemmeno un alibi il campo, però il problema è che allenandoci sempre sul sintetico, quando poi vieni su queste superfici devi soffrire. Però poi se riesci a creare tanto, neanche ti puoi lamentare tanto. Sicuramente mi dicevano i ragazzi che sotto porta era veramente difficile, perché mi sono subito lamentato con loro, alla fine del primo tempo, di tutte le occasioni che stavamo sprecando. E comunque, alla fine, come ti ho detto prima, non deve essere mai un alibi il campo. Noi dovremmo essere pronti su tutte le superfici. Devo essere bravo io a far giocare dei giocatori più da, come devo dire, da guerriglia in certe partite. Fisici, diciamo. Hai sostituito Mauriello, poi gli hai detto qualcosa mentre rientrava in panchina. Non sei contento della sua prestazione? No, Antonio è stato bravissimo nell'azione del gol, ha fatto una grande giocata a destra. Però poi due o tre giocate subito sul suo lato, perché avevamo capito che loro stavano in difficoltà là, ha spiegato due o tre palle veramente gestibili, che stavamo tre o quattro in chiusura, lui ha messo palla sempre fuori. Mi sono arrabbiato, però poi Andrade Luciano ci ha fatto la stessa cosa per una decina di minuti. Però a questi giovani bisogna lavorarci. Io sono contento dei miei giovani, mi auguro che con un mercato di cebo possa arrivare anche qualche altro 96 per lavorare tanto con loro, perché devono migliorare. Però noi lo sappiamo e dobbiamo essere noi adulti ad aiutare i giovani. Coppa Italia farai ruotare la squadra, molti dei titolari riposeranno? No, diciamo che ormai io non riesco a capire più chi sono i titolari e quali sono le riserve. Oggi per esempio voglio rimarcare, a 15 minuti alla fine è entrato Di Lallo, secondo me ha fatto una partita importante. Quando è entrato Di Lallo abbiamo avuto subito tre o quattro occasioni perché ha dato sostanza al centro campo. Io cercherò di far giocare un poco tutti, però tenendo presente che il Venafro in casa proprio è una brutta squadra, cioè è una squadra difficile da affrontare. Pareggio tra Comprensorio Vairano e Cliternina Finisce 2-2 la partita tra il Comprensorio Vairano e la Cliternina al Comunale di Capriati al Volturno. Un primo tempo piuttosto equilibrato con il Vairano che si è messo in mostra un po' di più rispetto agli avversari. Primo squillo del match arriva al decimo minuto con un tiro insidioso di Delena, ma Sassano riesce a bloccare la sfera. Al dodicesimo è Verde che sciupa un'occasione mandando alle stelle. Al diciassettesimo si vede la Cliternina con D'Alessandro in ottima posizione, ma il suo destro si spegne al lato. Ventunesimo minuto di gioco, la svolta. Aurelio a terra verde in area. Per il direttore di gara Barbiero della sezione di Campobasso non ci sono dubbi, è rigore. Al dischetto va Ruggero che non sbaglia ed è 1-0 per il Vairano. Al trentottesimo la Cliternina riesce a pareggiare i conti sugli sviluppi di un calcio di punizione grazie appena insacca la rete avversaria. Sull'1-1 si va negli spogliatoi. La ripresa è un po' più scoppiettante rispetto al primo tempo. Al decimo è Brivido con un bolide di Delena, sganciato dalla distanza, ma Sassano è bravo a parare. Al diciottesimo ci prova De Pascalis, ma Russo in estremis, devia in angolo. Ventunesimo minuto di gioco, il risultato cambia ancora, con Di Rabbio che da ottima posizione riesce ad insaccare la rete del 2-1. Il vantaggio dura poco perché un minuto dopo un colpo di testa di Cirelli, servito da Ruggero, riporta la parità sul rettangolo di gioco. Ultimo sussulto arriva al quarantaquattresimo con un colpo di testa di D'Alessandro. Un pareggio giusto, quello maturato al Comunale di Capriati, che sta un po' più stretto al Vairano rispetto alla Cliternina, che è riuscita perlomeno a smuovere la sua classifica. Mercoledì, dopo domani, è in programma l'andata dei quarti della Coppa Italia regionale. Si giocheranno Venafro, Campobasso, Pozzilli, Gioventù Dauna, Cliternina, Fornelli e Comprensorio Vairano, Sesto Campano. Le partite inizieranno alle 14.30. Campionato di promozione non ad andata. Vediamo i risultati. Acli Riccia 3-3, Civitanova Castelmauro 1-4, Maronea Casalnuovo 1-3, Molise Rocca Sicura 2-2, Vinchiaturo Toro 0-0, Matese Campodipietra 3-0, Spinete Cerce Maggiore 1-3, Torremagliano Real Termoli 4-2. in testa al campionato di promozione Matese 23, Casalnuovo 19, Riccia 18, Vinchiaturo 15, Cerce Maggiore, Termoli e Real Termoli 14, Castelmauro, Torremagliano e Toro 13, Molise, Maronea e Acli 10, Rocca Sicura 9, Civitanova 7, Campodipietra 6, Spinete 3. Prima vittoria in esterno per il Castelmauro in casa del Civitanova. La nona giornata di promozione tra Civitanova e Castelmauro termina sul risultato di 4-1 in favore degli ospiti. Un match tutto in salita per i ragazzi di Esposito che portano a casa la seconda vittoria consecutiva a dirigere l'incontro il signor Carpano di Termoli. L'incontro inizia con qualche minuto di ritardo per via del forte vento ma dopo aver constatato insieme a due capitani che l'incontro poteva disputarsi il direttore di gara dà inizio al match. Al quinto minuto si fa vedere il Civitanova con Sant'Angelo che riceve palla e prova la conclusione a cui Sedile si oppone. Dopo tre minuti però arriva il vantaggio del Castelmauro, passaggio di Antonacci per Manes che non fallisce per 1-0 Biancorosso. Dopo la rete lo stesso Manes sarà però costretto ad uscire dopo 12 minuti di gioco per via di un infortunio. Comunque il gol dà carica alla squadra che al ventiduesimo raddoppia Coppola da Antonacci che infila per il 2-0 Castelmauro. Spiazzato il Civitanova non ha neanche il tempo di reagire che al ventiquattresimo subisce il terzo gol in meno di mezz'ora. A provarci questa volta è notarangelo di Pasco si oppone e sulla respinta ne approfitta Coppola per il 3-0 degli ospiti. Davvero una doccia fredda per la squadra di Di Rosa che forse si aspettava un avvio ben diverso anche se al 34esimo accorcia le distanze. Ricci con la coda dell'occhio vede l'inserimento di Volpe che va a realizzare la rete. Nella ripresa con le immagini di Mario Pesce i toni dell'incontro calano notevolmente. Al 19esimo si fanno sotto i padroni di casa con Ricci per Battista che palla al piede e entra in area ma conclusione che va fuori. Al 37esimo sempre Ricci questa volta per Di Rosa che davanti a Sedile ha ben due possibilità per andare a segno ma entrambe le volte il numero uno bianco rosso si oppone. Da qui si arriva direttamente al 45esimo. Fallo di Di Talla sull'avversario per lui espulsione per doppia munizione per i padroni di casa e invece un calcio di punizione la cui battuta va a Moscufo ma adesso rinviato di puni da Di Pasco. Nei minuti di recupero il Castel Mauro cala il poker complice anche una gran papera di Di Pasco che su tiro di Tufilli non trattiene la sfera accompagnandola in rete. Termina così l'incontro una vittoria importantissima per il Castel Mauro che si rimette in carreggiata aspettando Leacli Campobasso in casa. Nero invece il periodo per il Civitanova che per la prossima dovrà far visita al Real Termoli. La telecronaca tra Civitanova e Castel Mauro andrà in onda oggi su Tele Molise 2, canale 12 alle 17, su Tele Molise Sport, canale 112 alle 20 e 30. Ancora due punti persi per l'FC Molise che si è fatta recuperare dal Rocca Sicura. Sotto le pendici del Castello Monforte l'FC Molise assapora il gusto amaro di un pareggio agguantato da Rocca Sicura proprio sul finire della partita. I ragazzi di Mister Cenci non hanno smesso di credere nei miracoli mostrandosi determinati e caparbi. Ma andiamo alla cronaca. Al nono minuto si fa già pericoloso l'FC Molise con Tromba che ci prova dalla destra con un cross che assume poi tutta l'intenzione di un tiro in porta. Solo dopo due minuti i tedeschi, 1-3 milioni in campo, si libera e bene dall'avversario e metta in mezzo ma Amorosa non ne approfitta. Ma è sui calci piazzati che l'FC si dimostra più pericolosa tanto da raggiungere il gol proprio su angolo battuto da Amorosa. Il giovane Tizzani la mette dentro con un tiro secco e determinato portando i padroni di casa in vantaggio. Sul finire il primo tempo si riaffaccia Rocca Sicura, prima con Sharaf e poi con Vannuccini. Le squadre rientrano negli spogliatoi e a ritorno in campo il gioco cambia volto. Dopo solo due giri di lancette, tedeschi firma il gol del 2-0 tra gli applausi dei presenti. Il numero 7 festeggia togliendosi la maglietta e qui l'arbitro vitale di Zerna punisce con un giallo. Da qui Rocca Sicura perde un po' di fiato tanto che a farsi notare è ancora l'FC Molise. Interessante lo scambio tra tedeschi e Amorosa che prova un tiro di destro che va a finire però di poco fuori. Al 36esimo decisione dubbia dell'arbitro che annulla la terza rete dell'FC per un presunto fuorigioco. Le proteste dei giocatori in campo servono a ben poco. La partita sembra chiudersi qui eppure Rocca Sicura compie il miracolo. Al 40esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione Milano gonfia la rete di Rinaldi. Ma non finisce qui perché solo dopo alcuni minuti a riportare il pareggio ci pensa Di Pilla sempre su punizione. Mentre Rocca Sicura festeggia l'importante impresa l'FC Molise demoralizzato torna negli spogliatoi con tanto lavoro ancora da fare. Basket in divisione nazionale B. Prima vittoria stagionale in esterno per il Venafro che ha vinto 81 a 72 a Taranto. In divisione nazionale C. Sernia sconfitta 88 a 53 in casa del Trani. Per la C regionale il Termoli ha vinto 79 a 71 contro il Chieti. Successo di un punto per Ripalimosani 63 a 62 contro il centro Abruzzo. K.O. le squadre del capoluogo. Campobasket Pescara si chiuse 64 a 76. N.B.C. Taranto 35 a 100. Adesso vediamo i risultati della prima categoria. Iniziamo con il girone A. Sanniti con Cacasale 2 a 1. Carullo, Colli al Volturno 2 a 2. Forulum, Carpinone 3 a 4. Montenero, Sestolese 2 a 1. Pescherufre 1 a 3. Pizzone, Cerro 1 a 1. San Pietro, Avellana. Prata 2 a 5. A riposato, Macchia. In testa al girone A troviamo Carpinone 18, Real Prata 13, Sestolese 12, poi tutte le altre. I risultati del girone B. Ielsi, Pietra, Montecorvino 2 a 1. Cerce Maggiore, Murgansia 2 a 1. Fossaltese, Colle, Danchise 2 a 1. Morgia, Baranello 0 a 0. Ratino, Gildone 0 a 1. Ripalimosani, Mirabello 2 a 1. Sospesa, Volturino, Macchia, Valfortone. In testa al girone B troviamo Ripalimosani 13, Pietra, Montecorvino 12, Cerce Maggiore, Gildone 10, Fossaltese 9, poi le altre. Andiamo ai risultati del girone C. Campomarino, Quartiere Nord 3 a 1. Endas, Santo Stefano 1 a 2. Fiamma, Larino, Sporting Termoli 1 a 3. Frentani, Aururi 3 a 1. Guglionesi, Colle Torto 3 a 6. Petacciatese, Sant'Angelo 3 a 4. San Martino, San Giacomo 4 a 1. Riposato, Campobasso Calcio. In vetta a questo girone C, Campomarino 13, San Martino e Santo Stefano 12, Frentani a Sant'Angelo 11, poi tutte le altre. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Molise a calci. Ospiti di Gianni Bruno e Tabita Morcesse saranno Nicola Panico e Silvio Tedeschi, attaccanti che giocano nei campionati, Panico nel campionato di Serie D, Tedeschi in quello di promozione. Poi per quel che riguarda la trasmissione, commenti, opinioni e naturalmente la nostra moviola. Quindi appuntamento con Molise a calci, questa sera alle ore 21, sempre e naturalmente su Tele Molise. E tutto, buon pomeriggio. Grazie a tutti.